Cioè, una cosa che mi diceva sempre Pietro Carinei, che è stato anche uno dei miei maestri, io sono fortunato, ho avuto dei bravi maestri. Diceva Enrico, non devi entrare così. Come devi entrare? Tu devi entrare così. Come hai fatto adesso. Hai capito? Ebbè, quelle cose devi imparare. Sta! E come qua. Sorridi, mi diceva, sorridi. E ce l'ha il sorridio. Non è che stai, e ti fai Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. A Pratico.